Buongiorno raga, noi siamo in quarantena, eccoci qua, ci siamo appena svegliati e stiamo guardando un po' di televisione, stiamo un po' con i telefonini, noi ci alziamo, andiamo a fare colazione, e niente, quindi comincerò a fare i video su youtube dove farò vedere cosa faccio in quarantena. Eccomi qua, mi sono messa tenuta di casa con i cuoricini, abbiamo fatto colazione con gocciole, pan di stelle, e io invece ho mangiato questi, li trovo troppo buoni, veramente, sono troppo veramente buoni, mi sono fatto una pulizia viso perché i capelli devo lasciare così raga perché mi stanno crescendo, questa è la mia quarantena e vediamo fino a stasera, oggi a pranzo farò la pasta con le salsicce al sugo, le ho scongelate, quindi stanno qua scongelando, e oggi faccio la pasta con la salsiccia raga, questa è la mia quarantena, e ci aggiorniamo più tardi. Adesso il mio amore mi ha fatto un caffettino, sto qua sul divano, sto bere il caffettino, perché qua le giornate raga non passano mai, è mezzogiorno, ma non vece del pranzo, beviamo il caffè. Eccomi qua, sto facendo il sugo con la salsiccia, e intanto lui si allena di fuori, e niente ragazze, questa è la mia quarantena, con il telegiornale, ecco qua il mio sugo è tutto, aspettiamo che si cuoce. Eccomi qui, capelli alla Dragon Ball, abbiamo finito di pranzare, abbiamo mangiato la pasta con la salsiccia, già l'ho detto tipo 100 volte, e niente, ora restiamo qua sul divano, facciamo una partita a play, tra poco ci buiamo un bel caffè, questa è la nostra quarantena ragazzi, quindi state chiusi a casa, e siamo qua, niente, a dopo. Situazione, quarantena dopo ore, noi ancora qui, giocare alla play raga, penso che, non lo so, sto gioco l'abbiamo finito a mo', no, non l'abbiamo finito, non ce la facciamo più, però alla fine raga il tempo passa, non è che, boh, io normale, cioè, tu, tutto il posto, adesso siamo passati a GTA, GTA 5, siamo passati adesso, online, adesso stiamo qua, e niente raga, adesso stiamo facendo un caffettino, no adesso faccio le crepe, faccio fai su, vabbè, vado a fare le crepe, a dopo. Mi sta picchiando dentro casa, mi sta picchiando, mi stai picchiando. Ok raga, adesso, e niente, facciamo le crepe, non so come si fanno, che c'è va? Il latte, il latte, uova, farina e zucchero. Ok raga, preparazione delle crepe, i capelli c'è, sempre più ricci, guardate che carini. I miei occhialini, vabbè raga. Olè, le crepe, sono quasi pronti. Ma che cazzo è? Ma no. Il Dragon Ball mangia le crepe. Come suona, ma? Buonissimo. Buone raga. Le nostre crepe sono venute, buonissime, olè. Aggiornamento Dragon Ball dopo le crepe, raga, buonissime. Adesso siamo un'altra volta sul divano, questa è la nostra routine. Tra poco, dopo le crepe, farò anche un po' di allenamento sul tapirulano. E niente raga, ora accendiamo The Sims e giochiamo. Ok raga, la situazione è questa. Adesso mi sono messa a fare un po' di allenamento. Io quasi tutti i giorni lo faccio, però siccome questi giorni stiamo in quarantena, mi sto rompendo troppo le scatole. Lo so, fa sempre. Adesso sto un'oretta, due rette sul tapirulano. E poi mi ributto sul divano, però non mi vado a prendere la forma del divano, quindi bene o male mi tengo un po' allenata. Vabbè, a dopo. Ok raga, 15 minuti di tapirulano. Continuiamo. Ok raga, 40 minuti di tapirulano, in salita, fatto. Adesso Dragon Ball va a farsi la doccia. Situazione attuale. Divano, ho fatto l'allenamento, ho fatto la doccia e adesso divano. Situazione di, ci ho reso, ascoltate. Le 9 meno un quarto, ancora devo cenare perché non ho fame. E sto guardando un film strafighissimo su Sky. E niente raga, non so cosa cucino per cena. Sinceramente non c'ho manco fame perché ho mangiato le crepes alle 6. Mi sembra 5 e mezza, 6, quindi non c'ho neanche fame. Vabbè. Ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, eccomi qua. E niente, adesso io sto cucinando. Stasera cenetta carina. E niente, tra poco vi farò vedere la cenetta. Ecco qua la cena. Buon appetito raga. Eccomi qua. Fine serata. Siete state tutto quanto il giorno con me a vedere la mia quarantena. Farò anche altri vlog. Adesso editerò il video per voi. E ve lo metterò su Facebook. Grazie a tutti per la compagnia. E... State a casa. E veloce. E veloce. E veloce. E veloce. E veloce. Grazie.